Sei donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni hanno sviluppato una malattia rara che ha provocato trombosi nelle due settimane successive alla vaccinazione. Una è morta mentre una seconda è ricoverata in condizioni critiche. Tanto è bastato a convincere gli Stati Uniti a chiedere la sospensione temporanea del vaccino Johnson & Johnson. La notizia è stata pubblicata dal New York Times, la somministrazione è stata già fermata nei siti federali e gli Stati membri sono stati sollecitati a fare altrettanto. Finora circa 7 milioni di statunitensi hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson. Ecco l'identikit del siero prodotto dalla società americana. È l'unico monodose disponibile, può essere conservato in frigo per tre mesi e può essere somministrato a tutte le persone sopra i 18 anni. Tre caratteristiche per cui era molto atteso. Il Johnson & Johnson, quarto vaccino approvato dall'EMA dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca, si basa su vettori derivati da un adenovirus non in grado di replicarsi. Quando si riceve la dose, gli adenovirus stimolano la produzione di una proteina che viene riconosciuta come una minaccia dal sistema immunitario. Questo sviluppa una difesa contro la proteina del coronavirus, senza dover entrare in contatto con il coronavirus vero e proprio. È la stessa tecnica usata da AstraZeneca, anche se i due vaccini usano virus diversi.